Sapete cosa state guardando? Sono sistemi antipirateria. Anche se molto diversi da quelli a cui ci ha abituati Johnny Depp, ancora oggi i pirati sono in attività. I pirati moderni solitamente attaccano e rapiscono le navi e il loro equipaggio per richiedere un riscatto. Per le navi mercantili, cioè private, portare armi a bordo non è semplice e molto spesso si affidano a compagnie di protezione private, ma prima di arrivare a questo vengono dispiegati tutti i mezzi necessari per evitare l'arrembaggio come protezione ai parapetti, cannoni ad acqua, fumogeni e altri strumenti che fungono da deterrente. Dopotutto anche qui c'è dell'ingegneria.